Giovedì 28 febbraio 2013, a Milano, nell'auditorium di Palazzo Lombardia intitolato a Giovanni Testori, uno dei maggiori esponenti della cultura contemporanea lombarda, si è svolto il workshop di infoprogetto dal titolo Illuminazione, soluzioni d'arredo, arredamento per ufficio e contract. Giunta la seconda edizione si tratta di un'iniziativa promossa da Action Group, un evento che ha coinvolto le aziende leader del settore arredo, illuminazione e contract, come CLEAF. Siamo un'azienda operante nel settore dell'arredamento, siamo partnership delle principali aziende del settore e siamo conosciuti a livello internazionale per quella che è la ricerca nelle texture, nelle cromie e nei decori, quindi tutto quello che è al servizio delle principali aziende, dei designer per l'interior design, quindi a livello di proposte di nuovi materiali, nuovi concetti, nuove finiture, quindi per dare soluzioni nuove e innovative a chi lavora nel settore, quindi cerca sempre qualcosa di innovativo, di qualità e che sia poi al passo con i tempi, con la modernità, quindi non solo la ripetizione di quello che sono la tradizione del settore, ma quindi poter sempre permettere a queste aziende di espandersi in quelle che sono ormai il mercato internazionale sviluppato, quindi la richiesta sempre di qualcosa di innovativo, con contenuti di alto design italiano e questa è poi la nostra proposta a livello globale. Ma noi abbiamo tante collaborazioni, sia a livello di contrat, quindi con catene alberghiere a livello di 5-6 stelle, italiano e non italiano, quindi molte catene utilizzano ormai costantemente i nostri materiali, oppure importanti aziende del settore, ad esempio il prossimo Salone del Mobile, i nostri materiali saranno visibili in tantissimi stand, come tutti gli anni, delle principali aziende italiane e non e si troveranno sia in chi produce quindi mobili, armadi, cucine di alta gamma, di media gamma, quindi alla portata un po' di tutta la clientela, che comunque ormai è sempre più informata, ricerca sempre qualcosa di nuovo e di diverso e poi anche per chi in realtà non utilizza questi materiali per le proprie produzioni serie, ma comunque vuol dare un'immagine importante di sé a livello di stand, quindi pavimenti, pareti, quindi soprattutto a livello di Salone Mobile, che è un evento in cui noi partecipiamo ormai da anni con i nostri materiali, con queste collaborazioni, siamo sempre molto presenti e protagonisti. Per noi la collaborazione con gli architetti e designer è ormai fondamentale, il principale possiamo dire nostro collaboratore è l'architetto, perché noi all'architetto diamo possibilità di sviluppare nuovi progetti, di trovare soluzioni nuove e innovative e diciamo c'è uno scambio di idee, per cui noi prendiamo dagli architetti quelle che sono nuove idee per creare nuovi materiali, nuove finiture e l'architetto a sua volta da noi acquisisce nuove informazioni tecniche, nuove possibilità e sanno che con la nostra collaborazione venendo in sede da noi abbiamo adesso appena inaugurato un nuovo concetto di showroom che si chiama C-Cube, che è un centro appunto per creare idee, per sviluppare idee, per progettare aperto a tutti i protagonisti del settore del design appunto per dare questa possibilità di innovare, creare e trovare sempre soluzioni nuove e mai statiche a questa tipologia. L'architetto da questo punto di vista ha sposato la nostra mentalità perché sa che ormai il mondo cerca cose nuove, cose sempre più interessanti e sempre più belle, che poi è quello che insomma ricercato nel design italiano ed è la nostra forza.